Un individuo di 34 anni residente a Reggio Calabria, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza dalla polizia per aver minacciato la compagna con un coltello e successivamente aggredito sia la donna che suo padre con un bastone. Le accuse nei confronti dell'uomo comprendono maltrattamenti in famiglia aggravati commessi in presenza di minori e lesioni personali aggravate. L'intervento delle volanti è stato richiesto dopo una chiamata al numero di emergenza 113. La vittima insieme al padre ha riferito di essere stata minacciata con un grosso coltello dal compagno mentre si trovava in casa in presenza di uno dei suoi quattro figli minori. L'uomo le aveva anche sottratto il telefono cellulare. Sfruttando l'assenza dell'aggressore la donna è riuscita a fuggire con i figli presso la zia in una vicina abitazione dove è stata raggiunta dal padre. Quando erano insieme in strada il compagno della donna ha cercato di colpirla con un bastone ma l'intervento del padre lo ha impedito. L'uomo ha poi colpito per tre volte con delle testate il padre della compagna facendolo cadere a terra. Dopo il racconto della vittima gli agenti hanno rintracciato l'uomo nella sua abitazione dove sono stati trovati il bastone e il coltello utilizzati precedentemente oltre a 24 cartucce di fucile di vario calibro. Entrambe le vittime hanno formalmente denunciato l'accaduto e il padre della donna è stato trasportato in ospedale e curato per la frattura del setto nasale con una prognosi di circa un mese. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto del 34enne e ha ordinato il trasferimento nella casa circondariale di Argillà.